Buongiorno, ben trovati appuntamente. Il momento di sabato 10 giugno 2017 con la nostra consueta rassegna stampa che apriamo come sempre andando a vedere insieme le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in Edicola. Partiamo dal quotidiano La Città, il titolo principale riguarda il terremoto che scuote la ricostruzione. Ieri nel primissimo pomeriggio scossa di grado 3.9 a Pizzoli, scossa che ha riacceso la paura da Fonso a Terra, ma annuncia novità intanto per accelerare i cantieri. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero, l'Aquila, anche in questo caso il titolo principale, riguarda il ritorno dell'incubo sisma, terremoto 3.9 con epicentro a Pizzoli, sentito in tutta la regione. Poi vedete a centro pagina, Pescara blinda, concerti e feste, sicurezza totale. E poi la prima pagina del centro, iniziamo con la prima pagina edizione di Pescara, la protesta contro le prostitute proprio in pieno centro a Pescara, i residenti di Via dei Gasperi in strada per chiedere di allontanare le lucciole. E poi vediamo alcune notizie che riguardano Pescara e provincia, in città si parla di settimana corta al liceo classico Gabriele D'Annunzio, ma è scontro e poi edilizia in crisi, sono a rischio 5.000 addetti in basso. Si parla dei dati Istat del primo trimestre, a Abruzzo calano gli occupati, meno 17.000 posti rispetto al 2016, disoccupazione al 13,7%. E poi lo sport con una bella notizia, dopo tanti veleni per Ile Pescara calcio a 5, che nonostante le tante defezioni ha battuto ieri a Bassano del Grappa, ieri sera la Luparense ai rigori. E dunque è riuscita ad arrivare a gara 4, gara 4 che si giocherà in Abruzzo, non a Pescara, perché il campo della formazione biancazzurra è stato squalificato. Nelle prossime ore si conoscerà la sede di questa gara, a questo punto davvero molto attesa, tra i biancazzurri del presidente Danilo Iannascoli e la formazione Veneta. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Teramo, la politica in primo piano, saltato l'accordo, salva Brucchi, crisi in comune senza soluzioni, il sindaco furioso. Ora basta, si va tutti a casa. E poi terremoto, come sarà la ricostruzione in 700 al forum che si è tenuto ieri a Teramo. Poi in ereto, parroco lancia festa della birra per fare cassa. E poi in basso, vedete, Giulianova, pesce mal conservato, sequestrati, 5 quintali di prodotto ittico. Siamo alla prima pagina del centro, edizione dell'Aqui, la lezione impatto d'onore con la città. Il centro ha chiesto ai 7 candidati sindaci quali saranno le loro priorità. E poi tra sacco parla il ferito, il giovane che rischia di perdere un occhio, racconta quanto gli è accaduto qualche giorno fa. E poi all'Aquila, la bella favola di Del Pinto, giocatore aquilano che è stato promosso in Serie A con il Benevento. In basso, Avezzano, oltre 34 mila le urne, notizie utili e curiosità. Vi ricordo ovviamente che domani si voterà in Abruzzo in alcuni importanti centri, fra cui l'Aquila e Avezzano, per il rinnovo dei sindaci per l'elezione dei nuovi primi cittadini. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Chieti. Scalo senza acqua, monta la protesta, Chieti residenti che giovedì andranno tutti in comune. L'ACA si discolpa, la gestione non è nostra. E poi Poggio Fiorito, autorimessa brucia all'alba, incendio doloso. Lanciano ferie a rischio all'ospedale Renzetti, pochi infermieri. In basso si parla di sport, in questo caso di Serie D della Vastese, perché in panchina torna Colavitto, che nella passata stagione era stato esonerato e che dunque tornerà a guidare la formazione aragonese in vista del prossimo campionato di Serie D. Abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola. Ora, come sempre, andiamo a vedere l'edicola nazionale con i titoli dei quotidiani nazionali che troverete questa mattina in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, ovviamente si parla molto di politica nazionale e di elezioni in Gran Bretagna su tutti i quotidiani. Iniziamo dunque, come detto, dal Corriere della Sera. Partita chiusa, voto nel 2018. Renzi, legge elettorale solo con il sì di tutti. Di Maio, l'esponente dei 5 Stelle, dice che la riforma andava bene. E poi vedete, a centro pagina, May resta da sconfitta. Caos nei conservatori, perché in Gran Bretagna i conservatori ottengono il maggior numero di seggi, ma ne perdono diversi rispetto alla precedente consultazione. Conservatori che non hanno la maggioranza per poter governare da soli. E poi vedete anche la notizia che campeggia su tutti i quotidiani. L'incidente è accaduto ieri a Max Biaggi. Che paura, ma l'ho scampata. Nove costole rotte per il motociclista molto amato dagli sportivi italiani. La stampa di Torino, May al contrattacco. Nuovo governo, la Brexit va avanti. Parla il leader dei conservatori. E poi scuole aperte anche in estate, lo dice il ministro Fedeli. Ce lo chiedono le famiglie, ha spiegato il ministro in questo articolo che all'interno del giornale. Poi più in basso, legge elettorale, il Movimento 5 Stelle ci riprova con Berlusconi. Ma si allontanano, come abbiamo visto, praticamente in maniera definitiva le elezioni che potevano tenersi. In autunno, la Repubblica, la sfida di Pisapia Renzi, primarie di coalizione. E poi Stato Mafia, il boss in cella, dice Berlusconi, chiese aiuto. E poi Corbin, via May, punita dal voto. Parla l'esponente progressista in Gran Bretagna dei laboristi. Ma la Premier resiste e dice ce la farò. Il fatto quotidiano. In alto, chi c'è dietro? Renzusconi. Graviano, il Berlusca, si chiese la cortesia di qui l'urgenza, tra parentesi, delle stragi. E poi Consip, Marroni, ripete le accuse a Babbo Renzi, ma rimane al suo posto. Dunque, il fatto quotidiano punta su queste notizie delle ultime ore che riguardano Berlusconi e l'ex Premier Renzi. E poi a centropagina, la legge di latta senza i voti fa il governicchio con gli irlandesi. Si parla della May, l'esponente conservatore, che per governare dovrà allearsi con gli irlandesi, unionisti, che hanno ottenuto delle buone percentuali. Nelle elezioni di ieri, il giornale, agguato sulla legge elettorale, arriva il Mafiellum, fango giudiziario a Orologeria. Un capo mafia accusa Berlusconi proprio quando si doveva votare il Tedeskellum. E poi vedete incidente in pista, grave Biaggi, coi piloti sempre al limite, come abbiamo visto. Fortunatamente, però, non è in pericolo di vita Max Biaggi. E poi il suicidio della leader Tory, la May non molla il governo, ma ripiega su una soft Brexit. Libero, stato strozzino e ladro, non paga 64 miliardi alle aziende. E questo è il titolo principale del quotidiano libero. La verità, dove trovare un lavoro vero, vedete in alto, mentre l'Istat dà i numeri sui finti occupati. E poi vedete a centro pagina un altro titolo importante che riguarda la RAI. La RAI è infine caduta tra le braccia di Orfeo, questo titolo che gioca sul nome del nuovo direttore generale della RAI, che è Mario Orfeo, ex direttore del TG1, anche ex direttore del quotidiano, il messaggero. Poi vedete altri titoli, la May non si arrende, un governo per Brexit. Il dubbio di Matteo entra in politica con le intercettazioni anti-cavaliere. Poi a centro pagina, vedete, mai la leader dei conservatori alleati cercansi. E poi il manifesto, Renzi rivuole Pisapia. Poi tra parentesi, solo lui, vedete questo titolo che riguarda ovviamente le beghe interne elettorali in vista delle elezioni all'interno del centro-sinistra. E poi questo titolo, il circo Orfeo, perché anche sul manifesto si parla dell'elezione a direttore generale della RAI di Mario Orfeo, che fino a poche ore fa era direttore del TG1. Il tempo, Berluscoppola, nuovi veleni sul Cavaliere dopo 20 anni di accuse, collusioni con la mafia. Per mascherare il flop sulla trattativa, i PM tirano fuori i deliri del boss Graiano. E poi vedete, più in basso, lo sfogo del professor Antinori accusato di sequestro di persona. C'è questa intervista al medico che dice, io ho perseguitato come papà Renzi il messaggero. Giochi chiusi, avanti gentiloni. Renzi e i suoi dopo lo strappo sulla legge elettorale. Non serve votare prima del 2018, dice l'ex premier. Poi mei costretta alle alleanze. Siamo alle elezioni in Gran Bretagna. L'Unione Europea ora tratti sulla Brexit. Poi vedete, Biaggi, paura a 200 all'ora. E costo le rotta, lo sfangata, ha detto il pilota. Andata fortunatamente bene a Max Biaggi perché inizialmente le sue condizioni di salute erano apparse più gravi. Siamo al quotidiano della CEI. Avvenire, reddito di inclusione, un passo per i poveri. Varato il decreto da 190 a 485 euro al mese. Poi mei più da sola, l'aleato nordirlandese. Basterà per governare? Si chiede il quotidiano avvenire. Solo nelle prossime ore sapremo se basterà. Siamo al secolo XIX. Il giornale di Genova carige il voto Bastianini al Capolinia. Si parla delle vicende della banca genovese. Poi vedete, mei non cede. Brexit si va avanti. Più in basso, le polemiche dopo il voto alla Camera per la legge elettorale. Grillo chiude al Partito Democratico. Mai più con Renzi, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Siamo al mattino di Napoli. Gentiloni avanti fino al 2018. Sfuma il voto anticipato. Pisapia frena sull'apertura di Renzi. Faccia le primarie. E poi anche sul mattino, vedete, cade in pista. Paura per Max Biaggi. La Gazzetta del Mezzogiorno. Riforma elettorale. Addio. Duello continuo. Partito Democratico 5 Stelle. Renzi non crede ad un nuovo accordo. Domani le amministrative. Ricorda la Gazzetta del Mezzogiorno. Lo dicevamo anche prima. In diversi comuni italiani. In Abruzzo si vota in alcuni comuni. Come detto, tra cui l'Aquila e Avezzano. che sono sicuramente i centri più importanti. Gazzetta del Mezzogiorno. L'ultimo quotidiano della rassegna nazionale che prendiamo in esame. Che abbiamo preso in esame andando a leggere proprio i titoli dei quotidiani che troverete oggi in edicola. Noi possiamo a questo punto ripartire dal quotidiano Il Centro. Per andare a vedere le pagine interne. prima del quotidiano d'Abruzzo, poi del messaggero per vedere quali sono gli argomenti trattati all'interno del giornale. Si parla dell'estate dei nostri bambini. Pagina 2 del Centro. Colonie, sport, laboratori. L'Abruzzo apre i giochi. Chiuse le scuole per le famiglie. È tempo di programmare le vacanze dei figli. E poi vedete a pagina 3 i territori si mobilitano, escursioni a stiffe, poi antichi mestieri e boom di domande. E c'è anche il museo. Dunque tante attività per i ragazzi, per i bambini in questa estate dopo la chiusura delle scuole. Come abbiamo visto tra l'altro anche dal quotidiano La Stampa c'è anche chi propone l'apertura delle scuole in estate. Vediamo qualche titolo di cronaca nazionale prima di passare alla cronaca abruzzese. Vedete caos, legge elettorale, guerra tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Poi a pagina 5 il boss Graviano accusa l'ex presidente del Consiglio Berlusconi. Berlusconi mi chiese un aiuto ma poi mi tradì. Avrebbe detto il boss Graviano. Poi in basso, l'altra notizia importante del giorno, Orfeo, nuovo direttore generale della RAI, protesta del Movimento 5 Stelle con sette voti favorevoli. Freccero contrario e poi si parla anche di ipotesi di Bella al Tg1 come nuovo direttore del Tg1. Perché Orfeo è oggi nuovo direttore generale della RAI, ma fino a ieri era il direttore del Tg della Rete Ammiraglia della RAI. Stallo elettorale, Regno Unito, la MEI non ha i numeri ma non si dimette. Poi a pagina 7 Russia Gate, l'inchiesta, Trump all'attacco come una talpa e tocca a Kasner. Andiamo avanti per arrivare, lo facciamo velocemente, alle pagine che riguardano la cronaca della regione. C'è una pagina che riguarda i dati Istat per quanto riguarda l'Abruzzo. Frena canano infatti gli occupati nel primo trimestre, persi 17 mila posti di lavoro, la disoccupazione sale al 13,7%. In Italia gli indicatori sono positivi, a parte il mezzogiorno e dunque per la nostra regione i dati. Non sono positivi come in alcune regioni perché sono stati persi posti di lavoro. Siamo alle pagine delle cronache provinciali, partiamo da Pescara, Lucciole e proteste. I residenti di Via De Gasperi in strada ieri sera contro le prostitute, lo vedete anche da queste foto, riparte la battaglia del comitato. Il sindaco, dicono i residenti di Via De Gasperi, non ha mantenuto le promesse. E poi, più avanti, più vigili urbani di notte per controllare la movida, Forza Italia presenta un pacchetto di proposte da votare in Consiglio Comunale per riportare ordine in Via Battisti, previste anche norme più severe per i locali. Ieri si è tenuta questa conferenza stampa in comune negli uffici di Forza Italia, del gruppo di consiglieri comunali di Forza Italia. Andiamo a vedere qual è stato il succo di questa conferenza stampa nel servizio. Sostanzialmente i punti che noi abbiamo voluto sottolineare sono quelli di un intervento assolutamente più massiccio della Polizia Municipale per controllare queste attività e soprattutto le attività devono avere dei limiti sia ad orario ma anche soprattutto di spazi. Gli spazi che sono quelli esterni che devono essere limitati pari al 100% delle aree dei locali che svolgono queste attività di somministrazione, non solo di bevande ma anche di ristorazione. Siamo arrivati a questa determinazione perché indubbiamente pungolati anche dai vari interventi in commissione dei residenti e degli stessi commercianti. Devo dire che vogliono anche loro una regolamentazione sicuramente più serrata e più stringente perché oggi come oggi la situazione all'interno non solo del quadrilatero della Movida, quella più nota come Via Cesare Battisti e del mercato coperto, ma anche delle altre che vengono interessate deve essere regolamentata. La sistemazione della zona centrale di Pescara e quindi la rivalutazione e la riqualificazione di quella zona non doveva avere questo scopo e non aveva questo scopo perché è stata fatta ovviamente ideata e portata avanti dal centro-destra, oggi come oggi è sotto gli occhi di tutti che è sfuggita completamente di mano. Noi abbiamo proposto anche oltre a queste misure che andranno presto in consiglio per la discussione anche l'applicazione dei DASPO urgenti, ciò in relazione al decreto Minniti che è uscito recentemente, è proprio per limitare e soprattutto per porre un freno a tutte quelle attività illecite di accattonaggio, abusivismo con uso non solo di sostanze stupefacenti e violenze sui minori e con l'utilizzo dei minori per quanto riguarda questo tipo di attività. Quindi vogliamo con la proposta di delibera comunale indirizzare il sindaco affinché adotti con urgenza dei provvedimenti che vengono concretizzati con l'allontanamento della città ed altro. Queste dunque le proposte del centro-destra per quanto riguarda la Movida in città Pescara. Torniamo sempre alle pagine del quotidiano Il Centro, in basso con le tende davanti al comune famiglia di Alanno, resta senza casa e monta un accampamento in Piazza Italia. Andiamo avanti, settimana corsa al Liceo Classico d'Annunzio e bufera, genitori e studenti contraria all'idea di allungare l'orario dalle 8.15 alle 14 con rientro pomeridiano il venerdì e sabato a casa. Dunque c'è la protesta per questa proposta di settimana corta al Liceo d'Annunzio. Andiamo ancora avanti, sequestrato il finto filetto di Cernia, per i carabinieri è stato venduto un prodotto diverso da quello dichiarato. I consigli ai consumatori e poi in alto, in via Carlo Alberto dalla Chiesa, canna fumaria otturata, appello al comune. Poi una nomina importante per quanto riguarda la polizia di Stato di un dirigente della polizia proprio pescarese perché Mario Della Cioppa è il nuovo questore di Foggia, assumerà l'incarico il primo agosto. La novità rientra tra i movimenti dei dirigenti annunciati dal Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio della Cioppa, 57 anni pescarese, e è attualmente questore di Ascoli Piceno dal 2015. Andiamo ancora avanti, edilizia SOS per 5 mila addetti, lo dice Lance, con il nuovo codice degli appalti, le piccole imprese locali rischiano di essere spazzate via. E poi Saracinesche abbassate, locali commerciali sfitti, problema serio e dilagante. L'ASCOM promuove un censimento dei negozi che appescarono chiuso i battenti. Gli esercenti raccontano la propria esperienza e propongono idee. Per il rilancio è in basso, tasse meno care per chi riduce i canoni, Pasquale dell'ASCOM lancia la proposta al Comune. Gian Pietro, consigliere comunale e con delega al Presidente della Commissione Commercio, dice presto una campagna di marketing. Siamo alla pagina di Montesilvano del quotidiano Il Centro, campagna antiviolenza. Sarà il Comune a pagare. Grazie. 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 dal Comune di Città Sant'Angelo e l'Istituto Spaventa per difendere i ragazzi dai pericoli delle nuove tecnologie. In alto, sempre a Città Sant'Angelo, controlli deludito con baby casting domani all'Outlet Village e poi Pianella, bando comunale, un aiuto dai privati per sistemare le strade dissestate. E poi, vedete a fondo pagina, ci spostiamo a Spoltore, sempre in provincia di Pescara, Spoltore raccontata dai più piccoli, un volume realizzato dai bambini della primaria racconta la storia della cittadina pescarese. Siamo alla pagina della Valle Peligne dell'Alto Sangro, Notte Violenta, Castel di Sangro, anziano picchiato e rapinato tre in cella e poi Castel di Sangro, ancora rimase ferito in Afghanistan, medaglia d'oro al carabiniere di Loreto. Poi a Sulmona, San Cosimo, ennesimo appello, Valle Futura, la base militare va trasformato in un polo di protezione civile. In basso l'antico acquedotto di Raiano, tanti in visita alle uccole di Raiano e poi a Scanno nuove corse per la Marelli. Proseguiamo, ci spostiamo e torniamo per la precisione in provincia di Pescara con la pagina di Penne, di Popoli e dell'Alta Val Pescara. I sindaci dell'area vestina in lotta per l'ospedale Penne, incontro convocato dal sindaco Mario Semproni sull'accorpamento estivo dei reparti, il direttore sanitario smorza le polemiche e dice manterremo funzioni importanti. E poi a Caramanico Terme, concorso musicale Barrasso, consegnati i premi ai vincitori. A centropagina siamo a Torre dei Passeri, scuole e viabilità dalla regione 2 milioni e mezzo di euro. E poi a tocco da Casauria, guardie ambientali nuova sede, il gruppo presieduto da Sticca ha aperto un distaccamento a Pescara. Pagina di Chieti del centro, lo scalo senza acqua, residenti esasperati il 15, tutti in comune. L'ACA si discolpa, la gestione non è nostra e la portata è quella storica e in via Pescara, intanto Fogni è ancora in il tilt da gennaio, sei rotture nello stesso posto. E poi cronaca, raid alle ACLI, rubati a Chieti, computer e tv. In basso Poggio Fiorito, Capanone a fuoco all'alba, indagini sul dolo perché sembra dolosa l'origine di questo incendio. Siamo alla pagina dell'Aquila e della provincia, siamo nella Marsica, in questo caso a Trasacco, aggredito alle spalle, non sono razzista, parla il commerciante che è stato aggredito, dice lui libero, io perderò l'occhio. Gli avvocati chiedono una misura cautelare per il pugile ivoriano. E poi la terra torna a tremare, abbiamo visto dalle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, scossa ieri di magnitudo 3.9 con epicentro nella zona di Pizzoli. E poi Castel di Sangro, arrestati tre repinatori che assalirono un anziano. Infine Ortucchio, bomba ecologica ad Agostino. Basta perdere tempo, dice il consigliere comunale del piccolo centro che si trova nella Marsica. Pagina di Teramo, sempre dal centro, crisi in municipio, niente accordo, veti e ripicche. Salta il patto sulla giunta. Il sindaco Maurizio Brucchi dice ora basta, sono stufo, si parla solo di posti. Nell'esecutivo farò io una proposta. Se non va bene, tutti a casa. E poi a Giulianova si sente male, rianimata sulla riva. Giulianova, donna di 70 anni, soccorsa e salvata, con un massaggio cardiaco. In basso il parroco fa la festa della birra per salvare la chiesa. Annereto l'evento in piazza dal 23 giugno al 2 luglio. Don Roberto dice che non si può sopravvivere nella rassegnazione. Noi siamo così giunti al termine della prima parte di mattino 6. Ora ci fermiamo per qualche istante. Andiamo a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore, prossime ore che prevedono in maniera graduale l'arrivo del caldo. Linea alla regia. Poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Torniamo in studio per la seconda parte di mattino 6. Avevamo esaurito le pagine per quanto riguarda le cronache dalle province sul quotidiano Il Centro. Ora andiamo a vedere in sequenza, andremo a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo, del quotidiano Il Messaggero e poi vedremo anche le pagine del quotidiano La Città per poi parlare di sport, anche dell'impresa del Pescara Calcio A5 che ieri sera ha violato ai rigori le palasport di Bassano del Grappa battendo la Luparenza e ottenendo l'accesso a gara 4 della finalissima playoff per l'assegnazione del tricolore del Calcio A5. Allora siamo alla pagina 2 dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Si parla di voto al voto 50 comuni, fari sull'Aquila e Avezzano, il test più importante nel capoluogo di regione e poi anche altri centri importanti alle urne Avezzano. Poi in provincia di Pescara il centro più importante è quello di Spoltore, cittadina con più di 15 mila abitanti. In provincia di Chieti da segnalare il voto ad Ortona, anche in questo caso oltre 15 mila abitanti, ben oltre i 15 mila abitanti Ortona e poi in provincia di Teramo si segnala il voto, da segnalare il voto tra gli altri centri a Martinsicuro. Siamo alla pagina di Pescara del centro, steward niente alcol, estate blindata, misure di prevenzione al massimo grado per concerti ed eventi in città. Andiamo avanti, mercatino etnico sempre più lontano con la nuova legge, rigidi paletti per la realizzazione e l'assegnazione di posti, maggioranza divisa in comune, no di Forza Italia, a soldi pubblici. E poi io a giudizio fatico a comprendere sospiri e lo scandalo SOGET. Avevamo visto ieri anche il servizio proposto nel nostro Tg, servizio di Alfredo Primante, che ha fatto il punto su questa vicenda. E poi settimana corta al classico coro di, no, polemiche dunque per la proposta di restare a casa al sabato, ma di effettuare il rientro pomeridiano. E poi la protesta davanti al comune, la loro casa è rovinata, famiglia di Alanno, piazza una tenta davanti alla prefettura di Pescara. E poi sempre a Pescara architetti alle urne per le elezioni del nuovo ordine. E poi le elezioni, due donne contro di Lorito, la gente è il risultato aperto. Si parla ovviamente in questa pagina delle elezioni che si terranno nella giornata di domani. Tra l'altro oggi giornata di silenzio elettorale, come sempre alla vigilia del voto. Andiamo a vedere altre notizie. Francavilla, lite comune, fondazione, il premio Michetti Salta. E poi della cioppa, quest'ora affoggia, Mastro Mattei, Vicario a Padova, due funzionari, dirigenti della Polizia di Stato pescaresi, che hanno avuto degli importanti incarichi con della cioppa, che dal primo agosto sarà il nuovo questore di Foggia, e con Mastro Mattei, che sarà il questore Vicario a Padova, due città sicuramente importanti, con problematiche diverse, sempre per quanto concerne la sicurezza e l'ordine pubblico. Siamo all'Aquila, ospedale scontro aperto sul project financing privato. E poi in basso, fare centro, nasce il laboratorio di rigenerazione urbana, spaccio di droga in centro, arrestato. Un 24enne, proseguiamo, si parla in questo caso della città al voto, ma domani la parola passerà alle urne. Poi pagina di Avezzano, Sulmona, Monte Bove, il tunnel chiude di nuovo, la galleria ferroviaria più in quota d'Italia si abbassa di 20 centimetri e va in inghiottire, scrive qui il messaggero, altri finanziamenti. E poi Roccaraso, due indagate per il cuoco morto nello schianto, l'incidente di due giorni fa. Cappadocia, Lorenzin, regala un defibrillatore. Poi Sulmona massacrò un minore, due anni al bullo. E poi a Avezzano, furti in serie, ancora un arresto. Sulmona, nucleo industriale, via al piano, regolatore. Tornando ad Avezzano, piazza recintata, la protesta dei cittadini. Siamo a Chieti, megalo 2, in attesa della sentenza scatta la messa in sicurezza, forcing della società costruttrice che davanti al Tarra rinuncia alla sospensiva e annuncia l'avvio delle opere anti allagamento. E poi giovanissimo Romano, il terzo uomo dell'aggressione davanti al pub di Chieti, nella spedizione di febbraio scorso, fu accoltellato il fratello del presunto killer di Fausto Di Marco. E poi superospedale con Pescara, il consigliere regionale di Forza Italia Morofebo accusa perché Chieti ci rimette, spiega quali sarebbero a suo dire le problematiche che andrebbero contro il nosocomio Teatino. E poi cinque computer rubati nella notte nella sede Acli di Chieti. Decoro urbano, sviluppo e no al GPL, si parla di elezioni in questo caso a Dortona, ma noi andiamo a vedere le altre notizie che riguardano gli altri centri della provincia di Chieti. A Lanciano strage di alberi, condanna per due, a vasto albergatore vince al Tarra, piano spiaggia azzerato. Lanciano, ancora la città frentana, premio Rambaldi, comunicato l'elenco dei vincitori. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero Brucchi, minacce da gatti, ritiro i miei assessori, tre dissidenti, aprono uno spiraglio, ma la grana esplode. Da futuro in Tancredi al sindaco, dice fai l'aggiunta, vedremo chi oserà votare contro. E poi Montorio, Vasco Errani inaugura la vetrina del parco e poi l'istruzione, scuole in vista tagli a classi e personali. E poi Ponziani, l'ospedale unico deve rimanere in città, si parla di sanità con l'opinione dell'ex direttore della biblioteca delfico Luigi Ponziani. E poi nasce per il PD. I Democrat si dividono in due. Il nuovo soggetto presentato da Dino Pepe, Manuola Di Pasquale dice, non siamo contro nessuno. E siamo alla pagina di Giulianova, Roseto e della Val Vibrata, finanzieri in banca, sotto controllo i conti degli indagati, operazione Castrum via agli accertamenti patrimoniali. Intanto spunta un altro episodio di tentata concussione. Marti insicuro, i trabocchi arroventano il clima elettorale, mentre a Giulianova, Giulianova, Chalet, Letoghe bocciano la riapertura. Ad Alba Adriatica, violenza in spiaggia, giovane assolto. Tornando poi in vibrata a Tortoreto, il Manacara vince ricorso al Tar, l'estate sarà nel segno della Movida. Infine Roseto degli Abruzzi, l'ex sindaco Pavone contro la Giunta presenta conti sbagliati. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo attendere ancora per parlare di sport, perché dobbiamo andare a vedere insieme le pagine del quotidiano La Città. Poi nell'ultima parte della nostra rassegna stampa ci dedicheremo come sempre alla pagina sportiva, andando a vedere anche quali sono le novità in seno alle formazioni calcistiche, in particolare a Pescara e Teramo. Pagina 3 del quotidiano La Città, scossa di terremoto in Abruzzo, torna la paura, sisma di magnitudo 3.9 con epicentro a Pizzoli, avvertito distintamente anche in provincia di Teramo. E poi i controlli con i carabinieri del NAS che scoprono la truffa della Cernia, Fassulla. E poi ricostruzione via libera, gli interventi sugli edifici pubblici. Il commissario Vasco Errani firma l'ordinanza che stabilisce tempistica e criteri. E poi in basso si parla di politica, di legge elettorale. Nella lista dei franchi tiratori c'è anche il parlamentare abruzzese Ginobile. Proseguiamo. Post sisma il terremoto suona la scossa alla ricostruzione. Al convegno del Lancio il presidente D'Alfonso annuncia due novità per accelerare l'apertura dei cantieri. La crisi in comune. Siamo a Teramo. Il sindaco Brucchi Stufo mette tutti spalle al muro al termine della riunione di maggioranza. Dice basta giochetti. Lunedì presento la giunta. Altrimenti tutti a casa. In basso a Canzano la frana cambierà l'accesso al centro storico. Il presidente della regione Luciano D'Alfonso annuncia due milioni di euro per consolidare la piazza. E poi si parla di università ma soprattutto si parla di quello che mangeremo, che potremo mangiare in futuro. Nel prossimo futuro mangeremo insetti. Ne è convinto il professore dell'università di Teramo Mauro Serafini tra i migliori ricercatori al mondo in campo nutrizionale. In basso Malagò in visita a Teramo per la Coppa Interamnia. Il presidente nazionale del CONI sarà presente dunque alla 45esima edizione del torneo internazionale di palla a mano che si tiene ovviamente a Teramo. Il ministro taglia 18 professori. La provincia scrive al Miur atto sconsiderato e avulso dalla realtà. E poi la cronaca a San Nicolò incidente tra auto e scooter sullo stradone di San Nicolò. Giovane ferito e poi si parla di quartieri di Teramo. La gammarana denuncia l'inquinamento acustico della tangenziale. Nessuna lotta fratricida nel partito democratico. Il gruppo per il PD abbassa i toni del confronto con la componente ginobliana. E poi cambiando argomento a Pietracamela appello contro la chiusura di Banca Tercas. In basso Penna Sant'Andrea stasera riapre la chiesa della Santissima Trinità. Proseguiamo. Siamo alla pagina della Val Vibrata. Corropoli da Nuntis contro la Sclocco per i ritardi sui fondi per l'asilo nido. Annereto razzia di computer dall'aula informatica delle scuole medie. E poi ad Alba Adriatica. Botte all'invidia. Butta fuori il condannato. Prese a calcio e pugni. Un giovane civitellese. All'interno del locale. In basso il Ministero blocca 600 mila euro destinati a Nereeto. Per il gruppo Direzione Futuro il Comune non ha prodotto le certificazioni obbligatorie. Siamo sempre alle pagine della provincia di Teramo. In questo caso la pagina di Giulianova. Costretti a chiudere a causa del Comune lettera aperta al sindaco della titolare dell'albergo Colle del Mare. L'hotel deve ancora incassare 100 mila euro per aver ospitato i bisognosi su richiesta dell'ente. E poi vicenda Circus su il Comune diffida il CSA per la chiusura improvvisa degli impianti. In basso il Comune si accorge di avere un lungomare monumentale. Con una nota viene ricordata l'ordinanza che impone il decoro in tutta la zona. E poi il caso. Giulianova vince una bandiera blu ma ne compra 62 per 1.500 euro. Andiamo avanti. Pagina ancora della costa. Roseto bilancio approvato ma è guerra sui numeri del buco. E poi indagini col georadar a Montepagano. I boati degli ultimi giorni restano un mistero persino per il team di geologi. In basso ad Atri truffa dei cartellini indaga anche la corte dei conti. E poi pagina della cultura. Il dolore si racconta con l'empatia. Le notti blu Chiara Marchelli presenta il suo romanzo Nei giardini. Pannella. Siamo arrivati vedete alla pagina dello sport del quotidiano La Città. Partiamo proprio dal quotidiano La Città per parlare di sport e di Teramo in questo caso perché la società bianco-rossa punta su Antonino Asta ma bisogna attendere. Il team Aprutino ha individuato da tempo il suo timoniere ma la scelta va incastrata nell'asse con il Pescara. Il punto sulle manovre di mercato del Teramo nel servizio di Jacopo Forcella. Antonino Asta davanti a tutti. In una virtuale griglia di partenza per scegliere il prossimo allenatore del Teramo, l'ex tecnico di Monza, Bassano, Lecce, Feralpi, Salò, sembra aver scavato un piccolo solco rispetto ai concorrenti più agguerriti. O forse sarebbe il caso di dire al concorrente più agguerrito. Perché in questo momento a contendere la panchina bianco-rossa ad Asta sembra esserci realisticamente solo Ottavio Palladini, il duellante più accreditato, quello con le argomentazioni migliori per sopravanzare il candidato favorito. È probabile che già nella giornata di oggi ci sia il contatto diretto tra il Teramo e Asta con il nuovo direttore sportivo Giorgio Repetto che dovrà valutare se il profilo è adatto per la stagione della rivincita. La sensazione è che il diavolo cambia la strada rispetto alla scelta principale solamente nel momento in cui con Asta le cose non dovessero andare nel senso sperato. In quel caso, e solo in quel caso, Palladini avrebbe strada libera per l'eventuale sorpasso. L'accelerata dunque ci sarà in queste ore, visto che il Teramo ha fretta di iniziare a programmare la campagna acquisti, ma soprattutto quella delle cessioni che dovrà riguardare per forza di cose buona parte dei componenti dell'attuale organico. Se Asta, come sembra dovesse essere il prescelto, anche la rosa andrà rifondata sui canoni del 4x3, il modulo prediletto dal tecnico che potrebbe diventare il nuovo credo bianco-rosso e che rimarrebbe comunque il sistema di gioco preferito anche nel caso di arrivo di Palladini. Il weekend, questo weekend, potrebbe risultare decisivo per la fumata bianca, come già accaduto col direttore sportivo, che già domattina potrebbe essere presentato alla stampa e alla tifoseria. In questo modo il Teramo riempirebbe la casella mancante e sarebbe pronto per cominciare la nuova avventura. Questo dunque è il punto sulle manovre di mercato, il punto in casa Teramo, si attende l'ufficialità del nuovo tecnico. La settimana prossima verrà presentato anche il nuovo direttore sportivo, si tratta di Giorgio Repetto. Allora siamo alle pagine dello sport, ora del quotidiano il centro, doppia pagina che riguarda il calcio nazionale, mondiali 2018, immobile lancia l'Italia, ci serve una goleada, qualificazioni domani a Udine, la sfida contro il Ligtestain, poi vedete in basso paura per viaggi, incidente in pista a Latina, motociclismo, il campione romano si schianta e rischia grosso i medici. Nessuna lesione midollare. E poi calcio mercato di Serie A, il Milan non molla Belotti, 50 milioni più la Padula, dunque l'ex attaccante del Pescara potrebbe giocare il prossimo anno con la formazione Granata. Siamo alla pagina che riguarda il calcio di Serie B con il Pescara. Pescara solo Nicastro potrebbe essere riscattato, dal Novara tornerà Selasi, dal Carpi Forte e così tutti gli altri giocatori in prestito per fare cassa bisognerà vendere. In partenza Biraghi, Zampano e il capitano Memusciai. E poi vedete di fianco le altre DB perché il Bari offre la panchina al Pescarese grosso tecnico della primavera della Juve, Castori Carpi e addio dopo che gli emiliani hanno perso la finalissima playoff con il Benevento che è stato promosso in Serie A. Benevento, come molti di voi sapranno, guidato dall'ex tecnico del Pescara Marco Baroni. In basso si parla di Serie D perché con la vittima stessa e fatta l'allenatore Campano ritorna sulla panchina bianco-rossa Pineto che punta su Barbarossa. E poi il calcio di eccellenza e promozione di Giorgio Del Martinsicuro, Castellano va al passo Cordone. E poi il personaggio del momento, io Aquilano nella favola Benevento, come vi dicevo Benevento promosso in Serie A del Pinto. Da scoppito alla Serie A è un sogno che si realizza. Adesso voglio rimanere in giallo-rosso per giocarmi le carte, le origini e l'addio. L'Aquila è sempre nel mio cuore. Mi è dispiaciuto quando sono andato via per inseguire il sogno di arrivare in alto. Lorenzo Del Pinto, nato all'Aquila il 17 settembre del 1990, è riuscito alla fine a coronare il suo sogno perché è arrivato in Serie A con il Benevento. Pagina dedicata alla Lega Pro. Torneva a parlare del Teramo. Lo abbiamo sentito anche dal servizio di Jacopo Forcella. Asta, Antonio Asta, ex tecnico della Feralpi Salò, sempre in pole position per allenare i bianco-rossi. Spighi potrebbe salutare il Teramo. Il centrocampista è una delle pedine vicine all'addio per la panchina. Ed è a Montani, oltre all'ex Feralpi Salò. Montani, tra l'altro, tecnico del Francavilla, che domani giocherà la gara di ritorno della finalissima degli spareggi nazionali di eccellenza, in caso di vittoria Francavilla salirebbe in Serie D e sarebbe la settima squadra della nostra regione che il prossimo anno parteciperebbe all'ultimo campionato nazionale. Siamo al calcio a 5 perché quella di ieri è stata una vera e propria impresa per il Pescara. Un Pescara immortale che si aggiudica il terzo atto della finale Scudetto. Tricolore, ora che torna nel mirino. Luparense, KO, i calci di rigore per 8 a 7 e aveva vinto ai rigori la prima gara che si era giocata a Pescara. e Biancazzurri dunque riportano la serie in casa. Ora il parziale, se così lo vogliamo chiamare, di questa sfida è di 2 a 1 per la formazione veneta, ma Pescara che potrà contare su gara 4 e su eventuale gara 5, se non in casa, almeno vicino casa, perché il parquet del Pescara è stato squalificato per la rissa che ci fu dopo gara 1 il primo giugno per 7 mesi e si deve trovare una sede, San Nicolò o Montesilvano, le possibili sedi di gara 4, ma ovviamente sarà la divisione calcio a 5 a decidere. Oggi nel corso del TG6 ovviamente vi proporremo un servizio sull'impresa della formazione Biancazzurra. Parliamo anche di ciclismo, il Frentano Costantini all'Alpine Cup, mountain bike tra i quattro italiani presenti, c'è il portacolori della Dorsonia Racing, in basso rugby a Singapore, l'Italia sfida la Scozia, l'Under 20 qualificata ai mondiali e poi beach volley, Cottafava e Melatti del Quattrovele Pescara si impongono nella tappa di Milano e poi corsa in montagna, Celano entra nel vivo, l'ottava edizione dell'Eco-Trail Serra. Ultima pagina dello sport dal centro, si parla di pallannuoto e a parlare è il Maradona della pallannuoto italiana, io il triplete e la telefonata che mi ha fatto innamorare, parla Manele Stiarte che si racconta 30 anni dopo i trionfi con la Sisley Pescara, ricordi indelebili per Manele Stiarte. La scintilla un giorno mi squillò il telefono, una signora in spagnolo mi parlò di Pescara, pensavo di fare una visita di cortesia e invece Manele Stiarte è venuto a Pescara e non è andato più via perché vive nel capoluogo adriatico. E a proposito di pallannuoto, oggi si parla anche del Pescara, Pescara pallannuoto che scenderà in vasca per il primo round valevole per la promozione in Serie A2, all'Enaia di alle 17.30 arriva il Messina. Lasciamo le pagine dello sport del centro per andare a vedere le pagine dello sport del messaggero prima di salutarci, ripartiamo ovviamente dal Pescara. Pescara 5 baby colpi, praticamente definite le trattative per i nuovi giovani, il Milan ha dato l'ok per il prestito di Vido e Pessina, dall'Inter arriverà la Mezzala Palazzi e dall'Atalanta Zeman dovrebbe avere gli attaccanti Capone e Latte Lalt. Noi comunque andiamo a vedere il servizio di Andrea Costantini che in questo caso fa il punto sul mercato del Pescara che è molto vicino anche al difensore della Ternana, Meccariello. Potrebbe essere Biagio Meccariello uno dei principali rinforzi per la difesa del Pescara. Originario di Benevento, da cinque anni milita nella Ternana e nelle ultime stagioni ne è diventato il perno della retroguardia. Oltre 120 presenze con la maglia delle fere con cui Meccariello ha altri due anni di contratto. Per trattare con la società lo staff del Delfino dovrà comunque attendere l'esito della trattativa che potrebbe portare l'unico usano a rilevare il club rosso-verde che da tempo non naviga in acque tranquille dal punto di vista economico. Se Meccariello è un nome appetito da Zeman è altrettanto vero che la pattuglia di centrali bianca-azzurri è ricca e bisognerà di smetterne. Tra questi chi ha più chance di restare è Michele Fornasier per caratteristiche, età e durata del contratto. Se trovare mercato per i centrali bianca-azzurri può non essere semplice, discorso diverso per i terzini. In particolare Cristiano Biraghi che ha su di sé gli occhi di diversi club di Serie A. In particolare sono Bologna e Udinese ad essere in vantaggio sul difensore milanese sul quale però c'è anche l'interesse della Sampdoria. Biraghi è uno di quei giocatori che possono garantire una buona plusvalenza da realizzare entro il mese di giugno per esigenze legate alla chiusura del bilancio. A centrocampo ci sono altri profili che potrebbero garantire plusvalenze. In particolare il capitano Leydian Memuschai su cui è sempre vivo l'interesse del Bologna ma ora anche la neopromossa Spal sta facendo un pensierino. E poi Gaston Brugman, anche se l'uruguayano, si è fatto apprezzare da Zeman nelle ultime uscite e potrebbe essere un giocatore da cui ripartire per la prossima stagione. Stagione nella quale in cadetteria non ci sarà il benevento dell'ex Marco Baroni che ieri, battendo il Carpi nella finale di ritorno, ha centrato la prima storica promozione assoluta in Serie A. Mentre proprio un anno fa, 9 giugno 2016, proprio il Pescara festeggiava la promozione nella massima serie con il pareggio di Trapani, una data ben impressa nella mente dell'ex tecnico Massimo Oddo che su Instagram stamani ha postato una foto dei festeggiamenti dello stadio provinciale scrivendo «uno dei giorni più importanti e indimenticabili della mia vita». Oddo, ancora sotto contratto col Pescara, potrebbe a breve trovare una nuova sistemazione in Serie B e in pole position per la panchina del Frosinone, quella del Bari in alternativa. Parliamo ancora di calcio, ancora del Pescara perché il difensore Bastoni è il sogno proibito per la difesa sogno proibito della formazione adriatica. Poi c'è questa notizia curiosa che riguarda il tecnico del Crotone Nicola, Davide Nicola tra l'altro ex giocatore del Pescara che dopo aver ottenuto questa storica promozione con la formazione calabrese è partito per il tour in bici da Crotone a Torino e fa la tappa anche a Pescara. Parliamo del Teramo, primo obiettivo è sfoltire la rosa, il patron Campitelli e il direttore sportivo Repetto già al lavoro per risolvere alcuni contratti in essere. E poi il calcio a 5, il Pescara fa il colpo e rivede lo scudetto, i biancazzurri si impongono per 8-7 dopo i rigori sul campo della Luparense, annullano il primo match ball e ora hanno due gare in casa per prendersi il titolo. Si giocherà in campo neutro, probabilmente in Abruzzo, calcio di Serie D, l'Aquila si allungano i tempi della cessione siamo alla Serie D anche con la Vastese, presto la firma del nuovo direttore sportivo Micciola sulla panchina bianco-rossa tornerà il tecnico Colavitto e poi basket e pallannuoto per chiudere Salvemini, tecnico lo scorso anno all'Amatori verso Sansevero, Chieti, chance di ripescaggio in Serie A2. E poi Pescara, siamo come detto alla pallannuoto, inizia i play-off ospitando il Messina per il club acquatico debutto invece nei play-out nella vasca del Salerno. Noi prima di chiudere torniamo a parlare di ciclismo perché in questi ultimi giorni si è parlato molto del trofeo Matteotti il trofeo Matteotti che si disputerà regolarmente domenica 16 luglio Noi ieri siamo andati ad ascoltare il patron della corsa pescarese Renato Ricci, ascoltiamo Presidente Ricci, il Matteotti si farà, si correrà regolarmente domenica 16 luglio però c'è tanta amarezza in questi giorni perché il campionato italiano non si farà a Pescara e perché lei contava, sperava in qualche contributo da parte del Comune contributo che fino ad oggi non è arrivato Ma vabbè, 70 anni era da vigliacchi non fare il trofeo Matteotti considerando che tutti quando parlano di liberazione dell'Italia io nel 1945 ancora nascevo come nemmeno voi ma dopo tre mesi poche persone con Fulvio Perna hanno organizzato in un mese il primo trofeo Matteotti con grossi campioni noi ci dovremmo vergognare che non siamo capaci in tanti anni ad organizzare un campionato italiano e riconoscere il trofeo Matteotti i 70 anni di una gloriosa storia su questa manifestazione Lei è arrabbiato con la federazione? Ma guardi, io sono arrabbiato non solo con la federazione, forse non solo io è l'italiano che è arrabbiato, è arrabbiato contro tutto e contro tutti noi viviamo in una situazione che forse nessuno ha mai pensato noi abbiamo la fortuna, forse di passare nella storia fra mille anni di essere, magari di vivere in una situazione dove ci sono stati due papi noi abbiamo due papi, non è che è successo in duemila anni altre volte, penso e abbiamo anche due presidenti della Repubblica uno che è una bravissima persona e un altro che è detto delle regole e quindi è chiaro che stiamo vivendo una storia completamente sballata da 40 anni, forse senza fare politica, da quando è successo Tangentopoli da Di Pietro, non è cambiato niente, 30 anni, peggio di prima e quindi io come imprenditore, dico la verità, fra 5 anni se dovessi pensare cosa fare cosa che prima lo potevo sicuramente organizzare, adesso non so, non lo so perché tutti quanti siamo in una situazione dove ci portano da una parte e dall'altra quindi anche il Trofeo Matteotti, sicuramente vi posso assicurare che faccio il settantesimo anno per onorare non solo Pescara, perché io ci tengo tanto a Pescara e tutte le persone che sono affezionate al Trofeo Matteotti, nonni, padri, eccetera è per l'Abruzzo, ma sicuramente potete essere certi, io nel settantunesimo spero che entri qualcuno, che glielo regalo, tutto quello che volete ma io sicuramente non lo organizzo più Più che chiare le parole del patron del Trofeo Matteotti, Renato Ricci noi siamo davvero in conclusione dell'appuntamento di oggi, di sabato 10 giugno con Mattino 6 che tornerà puntuale lunedì sempre alle 8 io ringrazio Silvia Gentile in regia, ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento alla prima edizione del nostro telegiornale come sempre oggi alle 14 grazie per averci seguito l'augurio di un buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito